In queste qualifiche molti hanno fatto un passo avanti, invece tu non sei riuscito a rientrare nei primi dieci, come mai? Mi è mancato un decimo e mezzo, l'ho fatto da un blimo meglio quindi non posso dire di aver fatto qualcosa di sbagliato. Quindi tu o la macchina da che parte mancava secondo te? Quando manco un decimo e mezzo non si sa mai dove è mancato, io non ho fatto errori sul mio giro quindi è una questione di quello che vuoi. Fortuna, curva, che non c'è grip in curva, non lo so, ho sbagliato eccetera, tante cose, ma non ho sbagliato. E invece per quanto riguarda la gara, la Red Bull comunque nelle prove aveva sul passo gara un buon tempo. Sì, secondo me si può migliorare la nostra situazione, ovviamente non mi fa molto piacere essere dodicesimo, perciò cercheremo di prendere dei punti.